Previsioni per oggi. Al mattino, in pianura, nuvoloso con qualche schiarita. In montagna, coperto con possibili deboli piogge. Nel pomeriggio, in pianura, alternanza di sole e nubi sparse. In montagna, coperto con possibili deboli piogge. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, nuvoloso con qualche schiarita. In montagna, coperto con piogge intermittenti. Nel pomeriggio, in pianura, nubi contemporali anche forti. In montagna, coperto con possibili deboli piogge.